Niente api, niente impollinazioni, niente piante, niente animali e rivori e quindi niente più uomo. Negli ultimi anni, numerosi apicoltori sono stati testimoni di fatti assolutamente sbalorditivi. Interi sciami di api, provate morte al suono. Centinaia di migliaia di esemplari sono letteralmente scomparsi, come se avessero improvvisamente perso il loro formidabile senso dell'orientamento. È possibile che la fine delle api sia una minaccia anche per l'uomo? È possibile che il destino di queste due specie sia così legato, uomini e api. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.